il leader della lega dal professore autentico odio politico parole vergognose insulti inauditi autentico odio politico altro che scuse questo professore merita il licenziamento tutta la mia solidarietà e il mio abbraccio a giorgia meloni matteo salvini leader della lega interviene così sulla vicenda legata agli insulti rivolti giovanni gozzini storico e docente all'università di siena alla leader di fratelli d'italia datemi dei termini una rana dalla bocca larga una vacca una scrofa cosa devo dire le parole di gozzini in una trasmissione radiofonica meloni ha ricevuto la solidarietà da esponenti di diverse forze politiche anche quella del presidente della repubblica sergio mattarella ringrazio il presidente mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli insulti o sceni ricevuti è un gesto che ho apprezzato molto e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile in una democrazia tra critica e violenza ha detto meloni la condanna è maggiore nel caso specifico in cui l'offesa arriva da un docente responsabile della formazione culturale dei più giovani per questo sentirò il rettore di siena per verificare successivi provvedimenti ha detto la ministra dell'università e ricerca cristina messa parlando con l'ancronos come donna e come ministro aggiunge esprimo il mio dissenso e la mia condanna a qualsiasi forma di violenza verbale che sia espressa nei confronti di un'altra donna qualunque pensiero esprima qualsiasi partito rappresenti e qualsiasi posizione sociale occupi gozzini si è scusato per gli insulti condanno con decisione le offese sgradevoli mosse all'onorevole meloni dalle quali prendo assolutamente le distanze ha detto all'ancronos il rettore dell'università di siena francesco frati quanto alla possibilità di provvedimenti frati ha sottolineato valuteremo eventuali azioni lunedì ci sono organi competenti per questo io non ho il potere di sospendere nessuno se non attraverso una procedura che vedremo di avviare la prossima settimana abbiamo un collegio di disciplina che raccoglierà i vari elementi per poter valutare se necessario procedere con provvedimenti disciplinari so che lui si è scusato conclude ma ognuno è responsabile delle proprie azioni